153 quali contatti possiamo avere con i trapassati commento per un attimo possiamo intravedere una sagoma agli angoli del nostro sguardo ma poi la coscienza così abituata al senso materiale della vita fisica occupa di nuovo le nostre pupille e l'immagine astrale sparisce noi non possiamo vedere i nostri trapassati ma loro continuano a vederci noi li ricordiamo come erano nel piano fisico e loro o prendono l'immagine di come li abbiamo conosciuti nel piano astrale i corpi sono sostanziati di una materia molto più duttile di quella che si esprime nel piano fisico